Siamo qui con il signor Fedele Pasquale che ci ha chiamato per questo disagio. E nessuno interviene, bravo. Sì, ho chiamato i vigili, i comuni, le circoscrizioni e non si è visto nessuno. Venti giorni, io sono pure invaluto, ho un posto riservato e non posso salire sulla macchina. Poi questa acqua è pericolosa, è più fabbricata. Se non abbiamo una guccia d'acqua, si perde l'acqua. È peccato. Lei non può parcheggiare la macchina perché non può scendere perché c'è l'acqua a terra, giusto? È invalido. Cosa fanno detto i vigili? I vigili fanno una segnalazione loro. Sì, che avvertono loro. Quanti giorni c'è questa perdita d'acqua? Più di 20 giorni. Prima c'era un buco, ora si fissero 5 buche. E l'Ausriol, un giovanotto come Torino è caduto. Non manca, almeno da noi qua non manca l'acqua. Però è uno spreco vedere queste perdite che ci sono e che nessuno prende provvedimenti. Come le strade che sono tutte rovinate. E tutto non funziona. Non funziona l'amministrazione, diciamo così. Gran parte siamo pure noi, i cittadini. Per esempio hanno messo i contenitori per la raccolta del differenziale. E vediamo sempre buste in giro. Gente, questi cittadini. E' la stessa i cittadini che non rispettano le regole. E quant'è che c'è questa perdita? Ma io penso una quindicina di giorni. Vengo passo sempre di qua. Ma non è che sto attento. So che c'è una perdita d'acqua. E sto attento a non bagnarmi. La città sta andando allo sfascio. Purtroppo le amministrazioni sono quelle che sono. Non c'è futuro in questa città purtroppo. Io sono regina e quindi sono molto, molto rammaricata. A prescindere da queste strade, tutte le problematiche che ci possono essere in questa città. Non c'è stato mai nessuno che abbia potuto risolvere questi problemi. Sono problemi, penso, di ordinaria amministrazione. Però, come potete vedere, non siamo stati capaci, nemmeno noi cittadini, di protestare come si dovrebbe.